Dueville, abitazioni e attività commerciali nel mirino dei ladri, 30 colpi in 6 mesi, riunito il comitato, ordine e sicurezza. Furti atti vandalici, il sindaco di Dueville chiede il potenziamento della videosorveglianza, è un progetto di controllo nei parchi. Arsiero, ancora allarme per la presenza di lupi a Monte Toraro, Vitella in fuga dal predatore, precipitano nel diruppo. Malo, lite in un locale, ubriaco, aggredisce i carabinieri, per l'uomo scatta il daspo urbano. Carenza di organico all'Inps, la proposta del senatore Zanettin alloggi a canon egevolato per i dipendenti. Telespettatori di Rete Veneta, buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con TG Vicenza. L'apertura è dunque dedicata alla cronaca, al tema della sicurezza in particolare partendo da Dueville. C'è stata un'escalation di furti in abitazione e nelle attività commerciali. Un bilancio che parla di un aumento del 30% nei primi sei mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Oggi, in seno al Comitato Ordine e Sicurezza che si è riunito, il municipio ha emesso la volontà di potenziare i controlli sul territorio. Appartamenti ed esercizi commerciali nel Mirino dei Ladri, a Dueville. Escalation di furti che nel primo semestre 2024 ha fatto registrare sul territorio già una trentina di episodi. Raffrontando i dati tra il primo semestre 2023 e il primo semestre 2024, si registra, non dico il doppio dei reati, però è un sensibile aumento dei reati. Furti in abitazione, prevalentemente furti in abitazione, ma c'è anche un leggero aumento per i furti presso esercizi commerciali. Un allarme per la sicurezza dei cittadini lanciato dal neoeletto sindaco Giuliano Stivan è colto in seno al Comitato Ordine e Sicurezza, convocato dal prefetto di Vicenza proprio in municipio a Dueville, vertici delle forze dell'ordine provinciali riuniti per delineare le strategie operative da mettere in campo per incrementare i livelli di sicurezza percepita e partecipata sul territorio. Alla luce della preoccupazione espressa dal primo cittadino in merito all'incremento dei furti in abitazione, ma anche in vista degli eventi ricreativi che si terranno prossimamente a Dueville. Per questo è stato predisposto il potenziamento dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, anche con la previsione di operazioni ad alto impatto. I servizi straordinari di controllo del territorio li faremo su una duplice direttiva, una mirata al reati contro il patrimonio e quindi a infrenare quegli atti vandalici posti in essere da giovani generazioni, quindi con l'utilizzo delle unità cinofile della Guardia di Finanza, con le associazioni sul territorio, l'associazione Carabinieri in Congedo, miriamo a svolgere un'attività sui parchi pubblici, con i controlli straordinari sul territorio e quindi stiamo verificando anche di pianificare una operazione ad alto impatto, quindi proprio per, sull'altra direttrice, proprio per, finalizzata, adottare una strategia un po' più efficace per infrenare i furti in abitazione. Questa dunque è la posizione del prefetto di Vicenza, ma sentiamo anche la voce dell'amministrazione comunale che pensa a potenziare la videosorveglianza e ad aderire al protocollo Milleocchi per la vigilanza privata. Escalation di furti a due ville che ha richiesto il confronto tra le istituzioni per l'adozione di diverse misure per la sicurezza dei cittadini, a partire dal potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio, da modernizzare anche con tecnologia di lettura targhe per il controllo stradale, ma non solo, il sindaco ha manifestato la disponibilità ad aderire al protocollo Milleocchi sulle città, progetto in materia di sicurezza urbana e integrata, finalizzato a potenziare i compiti di osservazione delle guardie giurate nell'ambito di una sinergia informativa con le forze di polizia. L'installazione e l'ampliamento del sistema di videosorveglianza, una convenzione con una dita privata che proporrà l'installazione di antifurti a prezzi agevolati con la presenza di forza di vigilanza armata in caso di affrazione. Giro di vite anche nei parchi, perché ultimamente tra le problematiche riscontrate a due ville compare anche quella relativa agli atti di vandalismo. Il controllo del vicinato, che ormai è uno strumento adottato in molte altre comunità e che funziona benissimo e l'ultimo è quella di fare una convenzione con l'associazione Carabinieri in congedo, che praticamente nelle ore serali farà attività di osservazione nei parchi e dove effettivamente c'è bisogno di attenzione. Ancora lupi in azione a Montetoraro, zona Arsiero. Alcune vitelle in fuga sono precipitate in un diruppo. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Antico proverbio che trova corrispondenza anche con la cronaca e l'attualità. I lupi continuano infatti a imperversare sull'altopiano e non solo. A Darsiero, a Montetoraro, 90 vitelle sono fuggite terrorizzate dai lupi. Due purtroppo sono precipitate in un diruppo. Sono le ultime vittime dei branchi che si aggirano anche nel Vicentino e che dall'inizio dell'anno si sono lasciati alle spalle una settantina di animali dilaniati. A Malga Mazze Inferiori, sull'altopiano di Asiago, i lupi sono tornati a predare. Vittima una manza di 17 mesi, uccisa dove già due anni fa erano state sbranate altre due vacche. Pochi giorni prima, la stessa sorte, era toccata in località Bertigo a un'altra mucca e subito dopo a una bestia di Malga Verde. La seconda predazione nel giro di pochi giorni per i malgari della valla Staro, tanto da indurli a lasciare prima del tempo l'alpeggio. Purtroppo l'estate è ancora lunga, ma nell'ultimo mese c'è stata un'ecatombe di animali predati dai lupi con oltre una ventina di bestie in altura che da giugno a oggi non hanno avuto scampo. I numeri sarebbero allarmanti. Nel Vicentino ci sarebbero 80 lupi suddivisi in 7 branchi con attacchi nella prima parte del 2024 che sono già il doppio di quelli dello stesso periodo dell'anno scorso. Una situazione che rischia di portare all'abbandono degli alpeggi con conseguenze anche sul turismo e sulla vita dei paesi della montagna vicentina. Indagine delle fiamme gialle a Lonigo. È stato denunciato un dipendente comunale che aveva naturalizzato alcuni brasiliani che non ne avevano però i requisiti. Lonigo, le fiamme gialle puntano i fari su un presunto giro di naturalizzazioni irregolari di cittadini brasiliani. Per questo è stato denunciato un ex dipendente del comune di Lonigo che si occupava delle relative pratiche burocratiche. Gli investigatori della tenenza di 90 Vicentina, insospettiti dalla molle di naturalizzazioni di brasiliani nella zona di Lonigo, hanno concentrato le attenzioni sulle richieste di 5 cittadini brasiliani che puntavano alla più veloce procedura di riconoscimento per via amministrativa della cittadinanza italiana Iure Sanguinis, finalizzata al successivo ottenimento del passaporto italiano previa iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Su questa specifica richiesta di iscrizione da parte dei 5 brasiliani, la polizia locale di Lonigo aveva posto un diniego segnalando l'assenza del requisito della dimora abituale. Ciò nonostante i 5 brasiliani erano stati ugualmente iscritti all'anagrafe, consentendogli quindi di ottenere la cittadinanza italiana. Le indagini dei finanzieri, tra testimonianze e documenti, hanno portato a considerare illecita la procedura e a denunciare il dipendente comunale. La cronaca ci porta a malo. Dopo una lite in un bar, un uomo aggredito i carabinieri ha ricevuto un daspo urbano. Scattato nei confronti di un uomo, cittadino albanese, con precedenti per reati contro la persona a ubriachezza, il divieto di accesso e lo stazionamento nelle vicinanze a tutti i locali pubblici del comune di Malo per la durata di due anni. Era stato arrestato il 12 luglio dai carabinieri di Arsiero per i reati di resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali perpetrati all'interno di un locale di Malo. Dopo che a seguito di assunzione di alcol era sorta un'accesa discussione con altri avventori, costringendo il gestore del bar a chiamare il numero d'emergenza. I carabinieri intervenuti, dopo essere stati apostrofati con frasi minacciose, erano stati aggrediti dall'uomo riportando lesioni personali. Pertanto il questore di Vicenza, Dario Sallustio, ha emesso un daspo willi nei confronti dell'uomo. Gli agenti delle squadre delle volanti della polizia hanno arrestato due cittadini nigeriani, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. Sono ritenuti responsabili di una rapina impropria consumata ieri mattina in Viale Sant'Agostino all'interno di un supermercato. I due hanno prelevato della merce esposta sugli scaffali, sono stati notati dal direttore del negozio mentre la nascondevano nei loro zaini. Dopo averlo strattonato sono riusciti a scappare ma poi intercettati a poca distanza con addosso ancora gli zaini e la merce sottratta del valore di circa 200 euro. I due sono stati arrestati. Vi ricordiamo i nostri contatti per segnalazioni di degrado o disagio con la mail vicenzachiocciolareteveneta.it whatsapp o sms 345 855 9664 anche con corredo fotografico oppure la pagina facebook Gli Amici di Rete Veneta. L'allarme nell'organico dell'Inps di Vicenza diventa una questione parlamentare. Il senatore di Forza Italia, Piero Antonio Zanettini presenta un'interrogazione e propone anche delle soluzioni. Inps, l'allarme, suona sempre più alto. C'è carenza di organico, l'istituto previdenziale a Vicenza è in difficoltà. Un SOS che viene raccolto dal parlamentare di Forza Italia, Piero Antonio Zanettini. E' davvero scandaloso quanto sta emergendo in questi giorni sulla sede Inps di Vicenza. Dei 239 lavoratori che a malapena erano sufficienti a gestire l'esigenza del territorio nel 2020, oggi ne restano operativi soltanto 190. Adesso il rischio è la chiusura delle sedi locali Inps di Tiene e di Arzignano. Si attendono nuove risorse umane, ma non c'è ancora traccia del nuovo bando di assunzioni. Insomma, servono soluzioni urgentemente. La nostra provincia, che è la terza provincia industriale del paese, non merita certamente un simile trattamento. Per risolvere il problema propongo concorsi per assunzioni a livello regionale e alloggi a canone agevolato per i dipendenti. Andiamo ora al Parco Giochi di Via Generale della Chiesa a Bertesinella. Le mame chiedono che vengano sistemati gli scivoli e le altalene in modo che i bambini possano giocare in sicurezza. Lo scivolo non funziona. Se qua guardare lì, quella lì, quella altalena lì, è rotta anche quella lì, quindi i rapazzini qua hanno problemi. Poi devo dire anche che una volta viene mantenuto anche meglio. Questo è un parco bellissimo, che è molto frequentato dai bambini, ci ritroviamo ora con uno scivolo senza scala e dei pannelli che sono pericolosi per i bambini e altre strutture, giochini, che sono stati distrutti e non vengono messi a posto. Abbiamo avuto anche la visita di qualcuno senza tetto che è venuto a dormire nelle giostrine, quindi abbiamo trovato coperte, cibo e altri materiali. Ripeto, se una volta veniva qualcuno a fare piccoli interventi di manutenzione, adesso in questo momento non c'è più nulla. In questo parco, soprattutto di notte, entrano persone senza avere ovviamente le chiavi del cancello, fanno ciò che vogliono, distruggono giochi, fanno uso di sostanze stupefacenti e noi residenti siamo stanchi di questa situazione. Il problema è che in questo quartiere non abbiamo praticamente dei parco giochi dove far giocare i nostri figli. Abbiamo tre parchi e nessuno dei tre che sia realmente funzionale per i bambini, poiché tutte le giostre, indistintamente dal parco, sono rotte a causa anche della mancata manutenzione negli anni. Anche gli altri parchi, purtroppo, questo che era quello più strutturato è messo così, ma anche quelli più piccolini hanno lo stesso problema di giostre che non sono accessibili. Sono ormai due anni che non vengo in questi parchi, nel mio quartiere, perché non sono agibili per i miei figli e sicuri soprattutto. Hanno sollecitato più volte, ma ancora non abbiamo avuto risposta. Una nonna diventa matta avere un bambino a casa tutto il giorno. Questo sarebbe uno sfogo, portarlo un paio di ore a divertirsi e dopo li metti a letto, gli dai da mangiare e riesci anche a tenerli a casa. Però non puoi tenerli a casa tutto il giorno, qua non c'è un parco giochi aperto. Noi frequentiamo il parco giochi quotidianamente, almeno quattro ore al giorno e trovarsi con queste condizioni dove non è sicuro per il bambino e devo correre dietro anche a loro per garantire proprio la sicurezza, crea parecchio disagio. La serata di Rete Veneta con focus alle 21.15 condotto dal nostro direttore, ospiti di questa puntata Pietro Beanna, Cesare Busetto, Alberto Ferri, Paolo Pizzolato, Laura Puppato, Massimo Venturato, Elisa Venturini e Matteo Zuccol. È tutto anche per questa edizione di TG Vicenza, vi lasciamo al meteo. Buona serata, a domani. Buona serata, a domani.